In alcune regioni italiane la scuola è già iniziata, in altre compresa la Calabria succederà la prossima settimana e come ogni anno ecco scattare l'allarme carolibri che costringe le famiglie che hanno figli in età scolare a fare sacrifici non da poco. Ma se sui testi si può fare ricorso ai mercatini del libro usato, sull'altro materiale necessario per la scuola ben poco si può fare e le famiglie con difficoltà economiche si trovano a dover affrontare ristrettezze per fornire il necessario ai propri figli. Per questo i Lions italiani hanno omesso a punto un progetto denominato Zaino Sospeso che permetterà di consegnare alle famiglie più bisognose il materiale scolastico necessario per garantire un degno diritto allo studio ai propri bambini. Anche il Lions di Vivo Valenza ha aderito al progetto individuando tre punti di raccolta in città. Sono particolarmente felice di iniziare il mio anno sociale con questo bellissimo service, è un service molto importante che consiste proprio nella raccolta di tutto quel materiale scolastico e quindi quelle piccole armi che possono servire ai nostri giovani studenti per poter affrontare al meglio questo anno. Lo scopo qual è? È quello di poter dare, fornire il materiale scolastico a famiglie che purtroppo per vari motivi economici, sociali non possono affrontare queste importanti spese. Purtroppo anche nella nostra provincia ci sono molte di queste famiglie, quindi noi come Lions siamo molto vicini, come spesso un nostro motto che a me è anche molto caro ma caro a tutti noi Lions, dove c'è un bisogno c'è un Lions. È rivolta a tutte le persone che entrano nelle cartolibrerie che sono state individuate, nel nostro caso sono tre le cartolibrerie, sono già segnalate su una locandina all'ingresso e possono aderire in qualunque modo, anche donando una penna, una gomma, un diario, un libro, quello che ritengono opportuno e che riescono a fare. Cerchiamo di dare noi con questa iniziativa opportunità allo studio a tutti i ragazzi, anche quelli che magari sono meno fortunati e quindi perché sappiamo quanto è importante lo studio. Malgrado il progetto sia iniziato solo oggi, già alcuni vedendo i contenitori hanno comprato quaderni da donare. Molte risposte positive, già ieri sera, ma da stamattina le premetto che ci sono persone che sono sensibilizzate a questa iniziativa e le posso garantire che c'è stata una signora di un paese con tre bambini, mi ha detto signora 10 euro io li voglio spendere e questo è una grande cosa perché secondo me con un piccolo gesto facciamo felici tante persone perché noi vediamo che quando vengono ad acquistare i testi scolastici a fatica li comprano, però alcune volte dice signora mi dà un quaderno e dico signora omaggio, davvero lo dice, contentissimi. Io sono felice e onorata di partecipare a questa iniziativa solidale.